3. Trasporto un po' di frumento per sparmare la famiglia per aquisizione Io che siamo l'argile a me hai più due sacchi di frumento e mi ho portato a presidio e a chi dica a nana a meno una tonnellata da sadira, vero? Ma per chi dobbiamo portare tutto all'ammasso? Noi ci lavoriamo e gli sanno appicchiare tutte le cose. Ci sono le teste giuste, fidati. Cotò capo sia, more. Sì! Ti scherziate? Mi sto ammazzando a tutti i mari! Mi sto ammazzando a tutti i mari!